Oggi, a Bologna, viene beatificato Don Olindo Marella, presvitero oriundo dalla diocesi di Chioggia, pastore secondo il cuore di Cristo, padre dei poveri, defensore dei deboli. Possa la sua straordinaria testimonianza essere modello per tanti sacerdoti chiamati ad essere umili e coraggiosi servitori del popolo di Dio. Adesso un applauso al nuovo Beato. Grazie a tutti.